Devi mettere in sicurezza un grattacielo, non sarà una cosa rapida, ti conviene fare spazio in agenda. Grazie a tutti. 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 Agente a tutti. Agente a tutti. Agente necessita supporto. Agente a tutti. Agente a tutti. Agente a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 Bersaglio ad alto rischio. Bersaglio ad alto rischio in arrivo. Pranaca lanciata. Colpite lo Drone aggressore attraverso Drone aggressore nemico rilevato Grave trauma Agente a terra Parametri vitali assenti Bravo! Peccati te! We got them! 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 Munizioni finite! La corazza ormai è inutile! Lancia una granata! Ora non farà che aumentare! E' il suo volume! Granata! Il corazzo è il tuo nemico! Fattura la divisione! Assecco! Divisione, sei di qua! Richiesta assistenza predica immediata! Agente ucciso! Scontro terminale! Distinto! Addestramento e palle quadrate! Scontro terminale! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.